Ciao a tutti ragazzi, come vedete stiamo iniziando a preparare la sala in occasione del Day 2 del Tana delle Tigri qui a Bernou. Vedete i dealer già in posizione con le buste dei giocatori superstiti del primo giorno di gara. Vi ricordo che il chip leader non è purtroppo un italiano, anzi è un giocatore locale, Ian ha imbustato 281.000 gettoni. Abbiamo comunque ottimi giocatori ancora in gara con stack affatto trascurabili, quindi speriamo di avere oggi una sorpresa. Non abbiamo ancora capito se giocheremo fino a 24 o 8 player left in vista del tavolo finale, vi aggiorneremo comunque direttamente dalle pagine del blog su questo particolare. Come sempre pokeritaliaweb.org, seguite la cronaca live in diretta dell'evento che seguiremo per voi in esclusiva, ve lo ricordo, fino alla sua conclusione. Ciao a tutti ragazzi e mi raccomando seguitici numerosi. Ciao!